bella a tutti ragazzi e ragazzi siamo su un nuovissimo video di cta 5 intanto vatemi deposita depositare un po di soldi che ho fatto poi sono di 6.000 dollari però va bene sempre che decidi di raccogliere un po di soldi metterli da parte per futuri acquisti quindi deposita ok 100 dollari 100 mila dollari perfetti allora intanto entriamo nel nostro stabilimento di documenti falsi e dove noi abbiamo 27 mila dollari ho fatto non ho fatto un video quando il conto del di valore di tutte le merci era tutto pieno ho visto che non arrivava a nemmeno a 100 mila dollari quindi non ho fatto il video ma siccome adesso vorrei andare a fare un po di merce vuole andare a fare un po di merce se cazzo però ok utente narcos password ignota c'è non c'è scritto per continuare sarebbe bellissimo far scegliere la password magari della fondamentale è bellissimo però non lo fanno fare non so perché ma va bene rifornisci andiamo a rubare delle scorte ok vediamo dove ce ne faranno rubare queste scorte secondo me in culo che dico però va bene tanto vediamo che c'è qualcuno in sessione vediamo fammi vedere perfetto ruba le scorte va bene dov'era per l'uomo sta passando finché mi amore grande al primo signori al primo madonna che culo dov'è eccola qua ragazzi non ho dovuto fare un cazzo un cazzo oddio che culo c'è qua così pongo preso subito il primo che preso subito aveva questo me lo prendo come è la moto che c'ho io si è la moto che c'ho io no niente ok iscrivetevi nei commenti non lo scusate perchè non ho un pochettino raffinatissi segnalo il globo già consegnato io tranquillo scusate si è un po' la voce che sono un po' così ma perchè sono purtroppo raffreddato perchè già stiamo cominciando con questo raffreddore del cazzo devo andare a prendere altri oppure ho finito se lo smetto se lo smetto ho finito vediamo ho finito ok io andando vicino volevo andare a vedere quanto era questa casa di qua tra queste è molto è più veloce dei primi episodi o sbaglio o sbaglio vediamo quant'è 118 mila dollari ma vabbè ma vabbè ok riferimento effettuato l'onggeo l'onggeo pass e chiude va bien e intanto continuiamo sempre ok ancora nessuna sessione ancora nessuna sessione perfetto vediamo chi c'è dei miei amici online vediamo chi c'è vediamo chi c'è allora purtroppo alla mattia wolf c'è un'ora di t5 ma magari invito sediamo se vuole giocare e tu muori ma non è morto va bene adesso andiamo che voglio provare perché ragazzi ehm le nuove gare c'è le nuove gare le gare quelle stile halloween perchè boh teletrasporto l'ultima cosa no 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 perchè ho visto un video di jumpy tech cosa facevo le gare multiveicolo però erano tipo stile halloween inferno vediamo ecco questa questa vediamo se me la trovo perchè la voglio provare con voi questa stile halloween voglio vedere vediamo se mi trovo una da sola o in compagnia se mi trovo forse mi la trovo in compagnia perchè quel cosa è già ok ost intanto mi devo esistere mi devo ehm fare una cosa scuola tra le cazzo un attimo ok allora da punto a punto vabbè questa ma così traffico no ne ho disospetto no mi sono chiesto di no ah ah sci ok 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 vediamo tanto su una dose attiva penso di no c'è il volume però io sono a basso perchè non ho le cuffie con me quindi non posso sentire la disattiva quindi vabbè io intanto la disattivo la voce conferma gioca andiamo intanto io mi metto lo sprepe il naso perchè se ho sentito la voce è di merda però un attimo regà ok regà ehm infatti ho una volta togliata questa parte però si grazie ok ehm veicolo veicolo gp italy gtb e e la nuova auto o sbaglio vai ne prendo questa è molto bello ne prendo questa colore rosso bene questo casco ma che cosa devo fare casco dito conferma continua pronto a giocare ok ok con il dalta plane 3 2 1 grande così andiamo ok aspetta ehm io mi intassi pilota sto coso ah così c'era me che pure ehm anche anche così madonna che bella la rega mi giuro su la più grande cosa che c'ho sul mio nuovo gioco accessing kid origins che è regata domani mi porta nel video ehm che difficilissimo e anche che gira pesante gira fatica raga aspetta aspetta calma 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 oh ma che cos'è ma c'è il cerchio volevo non creare però la cosa figa ma i giocatori sono hanno molto l'occhio fine non lo sanno la rockstar c'è il cerchio c'è tipo il cerchio quello della gara il dragone ragazzi c'è il cerchio poi se vengono qua però con il metallo ecco volevano fregarci ma non ci sono riusciti i bastardi ok andiamo ok vediamo visto tipo il cerchio si non si vede perché vogliono fregarci oddio oddio prendi il cerchio poi madonna che cazzo ma sono più avanti raga ma cosa ma 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 perché ma mettete spottato più avanti raga what boh vabbè si ok saliamo no no calmo 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 ok che macchina è questa la? oceano ok che coglione ho scelta io sono un pirla ma non so che macchina ho preso va bene ok raga sono scusate un pirla merda merda ma è meno probabilissima cioè se tu giri te ne vai in culo praticamente è una macchina difficissima da giri da controllare per non parlando dell'aile che è durissimo ci sta 28 anni per girare raga aspetta calmo 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 così 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 però è rugginito sembra tipo vecchio di vent'anni però e va bene andiamo Yetto anche poi che bello il cielo così cioè sembra tipo che ero haasia ho fatto con il colore negativo Ah north o Puloscia che cazzo non lo so è monta molto una moto normalissima perda ay urlomot opto bella che mi piace che sarebbe la chan sanchez giusto paletto ma non vogliono quella della città tiene la paletto forest la moto bato forse la conosciamo un tiro cioè è una macchina è una moto famoso gt5 come non dico come non conoscerla adesso andiamo per di qua merda lo per di qua no attenzione attenzione madonna ma tre ore per già rega se faccio così perché se no non respiro per vent'anni come si come si e le due premi quadrato così minchia hulk chi non sa di che cosa parlo rega perché ho visto tantissimi anni fa un video di un caravente che la sigla che era bellissima che c'è anche che sono dall'egitto agito così boh e io c'è stato non c'è che poi da con gli amore a proprio forte di questo mi sa che più forte salta aspetta sì infatti più forte di pressa mi sa che più forte salta che poteva ma no quanto corre grande l'ho preso io posso così aspetta 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 sì no che cazzo ho fatto mi sei incastrato vai uno due tre pezzi vande grande 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 così va madonna questa gara è troppo gasata è troppo gasata che cazzo ho detto rega cazzo tantissimo questa gara rega fighissima questa parte tre pezzi perché non ho fatto più giri non ho fatto due giri boh non mi ricordo non ho visto vabbè si lascia andiamo è troppo divertente aspetta e se che cazzo è caduta che ho avuto questo ma stica oh la nuova auto aspetta fammi sponare perché sono un coglione però vabbè la nuova auto la come si chiama la vigilante che sembra macchia lì ma no mi sembra bianca in cia bianca è troppo figa andiamo aspetta attenzione attenzione merda sono un testa di minchia dai 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 allora eh vigilante del cazzo sei immanovrabile come non so cosa come una pietra nel museo 9 come una pietra cioè un cazzo manovrabile come un mod comodi comodino del della mia stanzetta c'è lo stesso della mia camera dove dormo che è uguale sia la stessa cosa quindi andiamo aspetta calma 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 che bella che tutto è negativo oppure il fuoco cioè tutto il fuoco questo di qua non è negativo però questo della macchina si c'è ma bovato tutto negativo no no è troppo troppo tempo troppo troppo spreco la voglia proprio in culo avete la voglia adesso che si cambia di nuovo cosa ma che cazzo è un elio regalo questa è una cosa apocalittica aspettate oh yeah la quella come si chiama la blazer acqua beh o dire che ho sbattuto la testa sotto l'acqua c'è tipo 40 litri di acqua nell'orecchio ma domani un male d'orecchio che si ricorderà tutta la vita però la persona si baum sbandato diretto vabbè adesso vediamo cosa oh yeah madafaga raga quant'è figa raga è un po' bella questa io l'amo raga troppo 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 figa troppo troppo figa raga troppo figa figa abbiamo fatto la gara più figa del mondo e delle scorte per tre secondi neanche tempo di uscire c'è perché avevamo subito le scorte la di fronte cioè non abbiamo fatto neanche tempo di uscire dal mio stabilimento cioè non abbiamo fatto un cazzo in questo video però va bene ragazzi cazzo andiamo adesso faremo 300 gare però andiamo dai vabbè 300 gare non penso perché poi devo organizzare pure il video cioè organizzare devo pensare quando devo far uscire il video perché regale la presenza ci sta caricare anni e io c'ho la fibra anzi non è vero perché con la fibra adesso ma più veloce però carica cioè se io si può 112 minuti e si carica il video ti muro seggene ti ci dice proprio basta il mio po' da tossicassimo che non dobbiamo caricare non prima di domani cioè per dire per dire regà è finita la gara regà m***a che gara figa regà madonna che gara che la gara più bella del mondo quella è la gara che più bella che abbia fatto sera con le sera doppi rp e doppi soldi la farei con il mio servo al palo palo ancora ancora così perché troppo bella raga magari poi ci ritorniamo magari con mattia wolf ci ritorniamo con questa gara mattia mattia wolf dimmi sotto nei commenti se tu ci sei per ma non oggi quindi e raga ok si è rotto una macchina una macchina prima la foto sì io me la prendo perché sono trasgressivo e me ne vado con la macchina perché sono ciò un po' forte regà c'è roba da padrino c'è io signori a proverete ragazze piccola adesso per me devo uscire qualche modo gioco appena sbattuto non si è fatto un cazzo a parte qua si è graffiato tanto basta c'è indistruttibile c'è un po' in questa macchina c'è una pippa però andiamo 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 adesso questa macchina è mia basta deciso allora adesso andiamo al mio ufficio documenti per poter concludere questo vi giusto vabbè che non vado io perché non ci voglio di tagliare il video quindi andiamo avanti con questa macchina che nel campo se non trova veloce ma da 180 130 arriva a 130 che si ci si vola martingale i 6 animals si vola mi chiedete come la rampa madone ca vabbè adesso andiamo aspettate regà aspettate regà che macchina è quella la voglio ah morca puttana morca questa cos'è e madonna mia mamma mia 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 mi guardate questo ragazzo guardate qua cos'è il fumo dove cazzo è esce sto fumo di me oh dieci dai fumo vogliamo il fumo 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 vabbè andiamo vediamo scopi ma che cazzo regà manco toccata che cosa è successo sto capendo perché ecco a fermo adesso 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 voglio andare a vedere quanto magari abbiamo fatto e quante scorte abbiamo e quanta valore abbiamo di soldi e facciamo una scorta magari delle poi facciamo la vendita e poi vediamo la scorta le scorte volevo dire una scorta però sono stato un coglione perché mattina aveva detto che mi conveniva prendere la macchina macchina si vabbè ciò si la mi ha consigliato di prendere invece della stabilimento di quello della cosa del documenti falsificati e questo del genere merda 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 se io metto chat vocale un cazzo di nessuno vuol dire nessuno perché perché eh oh andiamo vediamo vediamo parla 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 way saga tutto a posto pa 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 adesso andiamo qua prendiamo nel mio stabilimento delle cose belle e mi stavo chiedendo mattia wolf aveva detto che mi conveniva prendere un ufficio invece di questo però stigiazzi questa venda perché poi dovevo comprare un milione per l'ufficio c'è doveva un bordo di soldi quindi ho preso primo questo fatto prima ragazzi ho fatto che magari più la lo compriamo magari più la lo compriamo ed entriamo nel mio magico regno dello stabilimento di cose belle che così che si chiama stabilimento di cose belle io lo chiamo donna cos perché lo spiego perché non voglio ripetere spiegare di nuovo perché non c'è voi andiamo intendo mi si basta la voce non so il motivo non so perché ma vabbè vediamo 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 dai carica 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 vai 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 oh bene facciamo la vendita perché non c'è per fare la merce e andiamo dai e con concludiamo la 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 tv regala comunque che concludiamo la tv ok no la tv concludiamola no allora vendi merce guarda quando c'è tipo no vendita così che è un tipo del giro che c'è si consiglia un ferro non troppo il tempo c'è andiamo i amma da faccia bici 45 mila dollari e si va a conquistare il mondo rega andiamo dai dai ma ti devi muovere 30 la vita e te oh cazzo perché c'è io non ho mancato solo x per cerca di sbrigare c'è un po se vedo un cazzo però perché si è in modo c'è una cosa non mi da più il migliorino di dove ho fatto un casino nella ma se non mi da i più soldi se non mi da se mi da zero soldi me ne vado e mi uccido dai mi sa che ho buggato qualcosa mi sa che ho buggato qualcosa nel corso della missione ho buggato qualcosa rega perfetto no merda ti ho buggato io non ho mancato un cazzo ecco non mi devo prenderti a come tre veicoli vabbè non mi rompere i coglioni lgt il duo come mica te chiamo in testa un cazzo mi sto pure la grande addosso ok andiamo 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 dove 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 sono tutto il mondo sembra che avevo mattia wolf cof meh ma online non c'è non c'è amici no 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 non c'è grandioso ok vabbè dai vediamo cosa ci vuoi fare vediamo chi c'è vediamo chi c'è vediamo chi c'è c'è uno forse c'è no non come vabbè sì che andiamo adesso come giro poi andiamo a schiantare su quell'elicottero però ok andiamo ok andiamo vola vola ok ehm andiamo qua facciamo facciamo da qua oh via e poi è il tempo che arriva perchè appena arrivo poi le cose sono più vicine perchè vediamo qua e prendere l'elicottero e io sono 27 minuti in tutto questo e io ho mangiato il radar per vedere se mi stanno sentendo porgo giuda per vedere se mi stanno alle calcagna però qua mi sento come una porca vacca canzoccola infamena masacca ah sto impazzendo raga se poi poi raga allora vi porterò poi un video di fifa 18 perchè poi se lo comprerà mio cugino fabiano quindi poi prendo la cosa sua e vi farò un video prima di 8 per dire va ehm io vi porterò però assassin creed origins che mi ha preso per il culo perchè mi ha detto che si chiamava si chiamava origin origins e no origins però sti cazzi raga sono stessi c'è non cambia un cazzo puttana non cambia un cazzo capito vabbè andiamo quanto manca ok eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua ciao cugino allora butta sopra butta la butta e butto giù tutto dai vieni qua 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 a chiedere aspetta uno tre due due quattro consigliere poi andiamo a consigliere pure a quello sospendo monica di cazzata con le insieme tutti però vabbè andiamo dai ehm 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 andiamo non faccio tutte cose lascine passi per caso non sono ritenganza quindi andiamo 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 manco voglio di mettere i segnali la prossima dai 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 quanto sono di là non so dove sono andiamo 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 ma perché bastiano quando parlo io si parla pure nella vocella aspetta tutto visto? boh andiamo 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 dai no è giusto dove cazzo sta perchè devo farlo io da solo che palle che palle dai dov'è? ah lei è portata giù da tanto se che non? dai un'elicottero Raga, come vi dico Vabbè, mi sono rotto il cazzo Quindi, per questo video è tutto Abbiamo fatto la nuova gara La nuova gara, la gara Perché la gara? Perché la gara? La gara, raga Non l'ho conoscita la gara, minchia Che progresso più famoso del mondo, no? Abbiamo fatto la gara Quella del Delta Plano, quella di Alom In poche parole E' stata una grandissima, grandissima figata Abbiamo fatto Abbiamo completamente battuto Qualche record per La missione dello stabilimento Più veloce del mondo E' Abbiamo fatto sicuramente qualche record Però Non so Perché 5 secondi, 2 secondi Perché l'abbiamo ucciso quello Possiamo entrare direttamente Perché Abbiamo fatto un cuo della madonna Perché, raga, abbiamo Abbiamo preso Quella 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 scorta Fattivamente Subito Cioè, l'abbiamo ucciso Ecco Scusa La prendi La vanno a prendere E te ne vai a dire Allo sapere meglio Cioè Una missione Una missione così L'ho fatta L'altra volta Però Non mi è così Non l'ho registrato Però va bene Allora, l'ho fatta in live Sì L'ho fatta Avevo fatto in live Subito in missione Concusa Perché Prima quello che ho ucciso Aveva le merci Ok, raga Vabbè Usate un bel like Cosa video è tutto Io con tre Con Michael Vi saluto Michael si guarda Allo specchio Aspetta Che si guarda Allo specchio Ok E Perché quando Si guarda così Madonna Mi è inquietante Ma è inquietante Che lo guarda Che si guarda così Vabbè Cosa video è tutto E Bella raga Ciao